e facendo un video su youtube 11.000 c'è qualcosa buono ma stremmi pure su twitch i youtuber veri stremmano su twitch e cosa porti come gioco? sto portando in questo ultimo tempo i gta basta che non porti fornite e poi va ben tutto eh fornite l'ho portato ma intanto mi sono spostato sull'intrattenimento con il mio marito fornite mi sono portato i coglioni però dai ho super professionale con il mio screen indietro vi saluto ciao 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 non ti piacciono i miei capelli scusa ma non li ha i capelli mi sa perché ce li ho i capelli? ma hai un canale youtube vero? si perchè perchè c'ha il green screen e quindi se c'ha il green screen cosa vuol dire? se c'ha il green screen c'ha il canale ok ok e quindi e fammi capire una cosa eh vai anche su twitch si ci vado su twitch ok oh prossimo trovato ciao ciao sei tu quella famosa su tiktok si si lo facevo fare un certo vai vai aspenazio grazie grazie come stai? bene bene si sto bene faccio tiktok no eh adesso stavo registrando un video che non posso ah tutti siamo nei primi video si di youtube però non di tiktok ciao youtube grazie compa ciao ciao raga raga la gente è felice buonasera ma c'era anche se il giorno però dettaglio raga facciamo la voce dal topolino parcelo parcelo io sono porcelo grande parcelo raga frate dica ma stesse perchè usi mettere la mascherina se sei a casa tua covid covid faccelo no vedi socio comunque vabbè mica vabbè lascia stare va il maritano 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 cosa cazzo canti cosa cazzo canti cosa cazzo canti il sasso è di capo urso cazzo canti cazzo canti cazzo canti come fai tutto where are you from cazzo canti in Italia chiusa in Mexico in Mexico si ok what are you doing no hablar english i not i not good speaking english ok no sé hablar english english you english no ciao ciao che fai di bello faccio i compiti di scuola direi di sì che classe fai terza media rip cosa butta gli esami ciao ma tu sei ciao io ti ho visto te fai i tiktok vero? eh ti ho già visto no ti seguo anche se non mi sbaglio un copetto di colla colla ciao sono una colla e quindi cosa succede se sei una colla sono una colla cazzo cosa succede se sei una colla vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto iscriviti e che non lasciate like iscriviti e cliccate la campanellina con il tecco sul video di tutti i vostri amici noi ci vediamo in un altro video e ci vediamo in un altro video ciao 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 ciao